Il dubbio da tempo aveva lasciato spazio alla terribile certezza per i genitori di Meriem Reahili. Avevano capito da tempo che la loro figlia aveva preso la strada della Jihad che si era imbarcata per raggiungere lo stato islamico, Daesh, ISIS. La giovane partita da Arzer Grande con un biglietto comprato in un'agenzia di piove di sacco ha dato più di un segnale della sua nuova attività in Siria. Mi occupo di logistica, sto bene, aveva scritto all'amichetta del cuore. In realtà sembra essere una delle più attive cyberterroriste al servizio di Daesh, comparsa più volte in rete con il nome di sorella Rim. Il padre era disperato alla notizia. Fin dai primi giorni non ha fatto altro che ribadire che la sua famiglia non c'entra con il terrorismo, che la figlia è stata plagiata. Gli ha messo in guardia anche i genitori, che come lui hanno figli adolescenti, che potrebbero finire nella stessa rete. Rete, appunto, utilizzata per propaganda, per azioni di hackeraggio, per trovare denaro fresco, ma anche per reclutare nuove forze, soprattutto tra chi in rete naviga tutti i giorni, le generazioni più giovani, persone che in rete ci stanno sempre. È difficile da controllare, anche per i loro stessi genitori. Meriem era cambiata, aveva raccontato il papà. Stava sola nella sua stanza, non parlava più con nessuno, si nascondeva quando doveva telefonare, il telefonino sempre in mano. Ma quando questi segnali si sono fatti evidenti, era già troppo tardi. Meriem aveva già preso la sua nuova strada.